Voglio un amore così forte che continueremo a provarlo. Persino dopo la morte. Camilla, che hai? Che succede? Camilla! Ha bisogno di un trappianto. Non è possibile, io ero in fondo la lista. Sto per morire. Tu ce la farai. Me ne occuperò di persone. Si tratta di un lavoro come un altro. Solo che salviamo delle vite. Il nostro personale medico valuterà il caso e prenderà un cuore compatibile. Sta' attento! Amore, ti prego, svegliaci. Ora la tiriamo fuori, stia tranquilla. Oggi inizierai una nuova vita. Valeria è stata uccisa perché un'altra persona vivesse. Quindi dovrei dimenticarmi di tutto e continuare la mia vita. Quello di Valeria non è un caso isolato né un lavoro da delinquenti comuni. Se continui a giocare al detective, puoi finire in guai serio. Era come se il cuore volesse dirmi qualcosa. A volte mi guardo allo specchio ed è come se vedessi un'altra persona. Ho bisogno di sapere a chi apparteneva questo cuore. Camilla non morirà. Glielo proibisco. Non lo trovi strano? Era da un po' che non provavo una sensazione come questa. Il cuore è il centro di tutte le nostre emozioni.